Grazie a tutti. L'importanza di poter mantenere la categoria, che per Trapani è un orgoglio, è una cosa importante. Questo mi dà la spinta per cercare di essere sempre attento, a fare sempre meglio il mio lavoro per poter riuscire a portare in porto questa avventura con l'obiettivo della salvezza. La squadra ha lavorato bene, come sempre, Stamberg non è convocato perché non sta bene, Pirrello e Colpani invece sono recuperati e sono stati convocati. Quindi la squadra possiamo dire al completo quasi. Ascolta, noi non dobbiamo farci entrare in testa queste cose, perché io dal primo giorno che sono arrivato ho cercato di lavorare sull'aspetto fisico, sull'aspetto datico e sull'aspetto mentale dei ragazzi. Queste cose qui essono da questi aspetti, non ci dobbiamo far entrare questo darlo assolutamente in mente, perché incapperemo in una situazione di debolezza e di... Insomma, poi per non dire che gli alberi meglio giudicarli dopo che non prima, significa essere prevenuti, quindi io su questo argomento qui dico che non bisogna assolutamente farsi... Non bisogna nemmeno pensarsi, io non voglio nemmeno sapere chi è l'albero, ma... Al Fista è una squadra tosta, ha fatto un ottimo campionato, una squadra neopromossa, quindi ha la motivazione forte delle matricole e troveremo sicuramente una squadra molto carica, molto motivata, oltre che ben messa in campo. Quindi sarà una bella battaglia, perché oltretutto anche loro riescono a dare il ritmo alla partita per 90 minuti, quindi sarà sicuramente una partita molto tirata, molto accesa. Ma io ho il discorso che ogni squadra cerca di andare in campo e cerca di dare il massimo per ottenere il massimo, quindi il discorso del pareggio, secondo me, a questo punto del campionato, loro cercano un ingresso a playoff. Noi cerchiamo la salvezza, quindi sarà, come ho detto prima, una partita combattutissima, sarà tirata perché nessuna delle squadre vorrà risparmiarsi per sopraffare l'altra. Quindi una partita, una classica partita sarebbe in cui ogni pronostico è sicuramente difficilissimo da saccare. Ascolta, io adesso mi metto a ridere, perché ogni partita, intanto devo capire se è un reato aspettare l'avversario per poi ripartire, o se è un peccato mortale, in questo me lo devo spiegare. Perché ogni squadra gioca in cui la fa giocare l'avversario. Poi quello che succederà l'anno e l'anno e l'anno e l'anno, non lo so neanche io, perché la partita si deve ancora giocare. Come ho detto prima, sono due squadre che vorranno superarsi, fermo restando che ogni strategia di gioco è funzionale in base all'obiettivo che ha una squadra per ottenere il risultato. Quindi non capisco se questo sia un limite o se è un reato, non riesco a capire se sia un reato o giocare in una maniera o in un'altra. L'importante è fare i punti, fare il risultato. Un'ultima domanda di Nicola Conforti, chiede, sembra che i suoi giocatori abbiano nelle ultime ore messo in mora la società perché vuole pagare gli stipendi solo dopo il 24 agosto. Un suo pensiero sulla vicenda? Non ne so niente e non è una cosa che mi riguarda, quindi non posso rispondere. Non è di mia competenza l'argomento che mi chiede Nicola Conforti. Grazie.